Il profondo restyling tecnico ed estetico porta indotte all'Audi E-Tron GT una potenza di 925 CV e un'autonomia di 609 km VLTP. I dati di performance di assoluto rilievo si completano con una potenza di ricarica più elevata, 320 kW in corrente continua, e un comportamento dinamico che, grazie alle innovative sospensioni attive, consente alla Coupé a quattro porte di spaziare da un comfort degno di una miraglia a un handling da sportiva pura. La gamma Audi E-Tron GT si amplia e si rinnova radicalmente forte di un incremento di potenza di 2210 CV rispetto al passato, alla quale si affiancano le inedite varianti Audi S E-Tron GT e Audi RS E-Tron GT Performance. Quest'ultimo modello è la prima RS Performance full electric della storia Audi Sport nonché, grazie ai 925 CV erogati dal powertrain, l'Audi di serie più potente mai realizzata. Audi S E-Tron GT è sinonimo di elegante sportività.